Arriva il nuovo regolamento e il nuovo piano di rete per l'installazione degli impianti di telefonia mobile 5G nel comune di Pesaro. L'illustrerà l'assessora alla sostenibilità Maria Rosa Conti durante un incontro pubblico che si svolgerà in modalità telematica domani, martedì 7 novembre, a partire dalle 17.30. Si tratta di un appuntamento rivolto a privati e portatori di interesse che potranno valutare e concertare la proposta elaborata dai tecnici dello studio Polab incaricate delle nuove pianificazioni dopo le tante problematiche emerse nell'ultimo anno in merito all'installazione di torri di telefonia in città. Vedi il caso di Soria così come quelli di Muraglia o di Fiorenzuola di Focara. Secondo l'assessora Conti il nuovo progetto di localizzazione delle stazioni radiobase privilegerà i siti di proprietà comunale che garantiscono copertura dei servizi e al contempo assicurano le condizioni di massima cautela per l'esposizione ai campi elettromagnetici. L'obiettivo è quello di giungere ad una soluzione che riduca l'impiatto ambientale e paesaggistico nel rispetto delle esigenze di copertura di rete. Intanto si apprende che sono 35 le nuove postazioni di telefonia che andranno impiantate a Pesero, una cifra che scende di quasi un terzo rispetto al centinaio che erano previste nel precedente piano e che ora andranno armonizzate in un non semplice compromesso fra esigenze tecnologiche e impatto su aree residenziali.